Immaginate di aver appena scattato delle bellissime foto ad una festa, non vedete l'ora di condividerle online appena arrivate a casa. Con qualsiasi altra fotocamera perdereste molto tempo con le varie operazioni di contrassegni, codici e caricamenti, ma non con la nuova fotocamera digitale Kodak EasyShare M580. EasyShare M580 è pensata proprio per questo, semplificare la condivisione dei vostri momenti più belli. È tutto estremamente semplice. 1. Scattate le vostre foto. 2. Premete il pulsante Share e contrassegnate quelle che vi interessano selezionando le destinazioni delle immagini. 3. Collegate la fotocamera al computer e automaticamente l'applicazione Kodak Share caricherà le foto online sui social network come Facebook, Flickr e Kodak Gallery, oppure verranno spedite via mail e contemporaneamente salvate sul proprio pc. Dotate di zoom ottico Schneider Kreuznack 8 opere di obiettivo grandangolare da 28 mm Kodak EasyShare M580 permette di realizzare foto incredibilmente nitide e dettagliate sia a soggetti ravvicinati che lontani. Grazie all'elevata risoluzione di 14 megapixel è possibile realizzare splendide foto stampabili anche in grandi formati. Con un numero maggiore di pixel infatti è possibile ritagliare e ingrandire l'immagine senza rinunciare minimamente alla qualità. L'ampio display LCD da 3 pollici è dotato di tecnologia Kodak Color Science che migliora ulteriormente l'immediata visualizzazione degli scatti con dettagli ancora più luminosi e brillanti. Kodak EasyShare M580 è dotata della funzione scatto intelligente che identifica la scena da riprendere, regola automaticamente tutte le impostazioni della fotocamera e dopo lo scatto elabora ulteriormente l'immagine migliorando il colore e la luminosità. Il riconoscimento dei volti consente di trovare, organizzare e condividere le foto con estrema semplicità. La fotocamera infatti è in grado di riconoscere automaticamente fino a 20 volti precontrassegnati e fino a 5 volti in una singola foto. Kodak M580 è molto più che una semplice fotocamera, è un accessorio degno di attenzione grazie al design elegante, compatto e alla moda da scegliere tra una varietà di splendidi colori in grado di riflettere la personalità del fotografo. Kodak M580, scattare splendide foto, è solo l'inizio.